Due anni fa ho deciso di fare una scommessa con me stesso, lasciare il mio lavoro per trovare un contesto più dinamico e interessante. Oggi in Alleanza posso dire di aver vinto quella scommessa. Amo il mio lavoro perché aiuto i clienti a realizzare sogni e progetti, ascoltando i loro bisogni e definendo con loro gli obiettivi da raggiungere insieme, così da rendere ogni consulenza unica e le mie giornate varie e interessanti. La crescita in Alleanza è dettata sempre da nuovi traguardi da raggiungere. Certo, non è semplice, però è questo che permette ogni giorno di migliorarci e fa sì che il nostro lavoro diventi anche la nostra passione. So di poter contare su una giusta formazione, sul supporto del mio responsabile e sull'aiuto dei miei colleghi. E tu, come me, vuoi vincere la tua scommessa?